buonar amstaff vediamo se c'è qualche giochino che spettacolo quale ti piace quale ti piace interessante mi sa che gunnar si porterà via tutto aspetta che ti piace gunnar che bella amistad e da tanto che ce l'avete a casa un paio di mesi appena abbiamo portato a casa appena si poteva grazie ecco contento gunnar ringrazio ma grazie a voi